Il calcio mercato invernale è ufficialmente finito, ma come si sono mosse tutte e venti le squadre di Serie A? Scopritelo insieme a me, ecco a voi le mie pagelle, Atalanta, 6, colpi d'entrata non sono stati fatti, ma comunque ottimo il non aver venduto Papo Gomez e Duvanzapata, richiesti rispettivamente da Cinarabbia ed Inter. Bologna, 6 e mezzo, totale rivoluzione, via Inzaghi dentro Mianovic e poi due doppi colpi, il primo dal Villareal, dal quale comprano Soriano e Sansone, mentre il secondo dal Torino, dal quale prelevano, seppur a titolo temporaneo, Edera e Lianco. Vedremo un po' se l'ex allenatore del Milan riuscirà a invertire la rotta e a salvare gli emiliani. Cagliari, 6 e più, niente di che, ma comunque non hanno venduto alla fine Barella, lusingato parecchio dalla proposta Chelsea. Con Anders il mercato sarebbe stato anche da 7, ma si consumano comunque con l'arrivo di Oliva. La difesa era da sistemare e sono arrivati Cacciatore e Luca Pellegrini, che certamente daranno una mano, oltre al pupillo dell'allenatore Walter Birza. Sono comunque nettamente migliorati. Chievo, 5, veramente scandalosi, una squadra che è praticamente spacciata per la retrocessione, non può fare questo calciomercato indegno. Schelotto è il miglior colpo e questo già è molto significativo. Vendono uno dei migliori giocatori che avevano il Rosa Birza e un difensore di tutto rispetto, come Cacciatore, ma si vogliono veramente salvare? Empori, 6, calciomercato in prospettiva con l'acquisto di molti giovani. Alla fine però Farias, per me, potrà dare una grossissima mano in attacco. Sono arrivati inoltre 6 milioni dalla versione di Zayc al Fenerbace. Fiorentina, 7 e mezzo. Il voto è giustificato da un acquisto. Luis Muriel, che alla fine già all'esordio contro la Roma, ha fatto vedere grandissime cose, oltre che anche contro la sua squadra Sampdoria. Dove ha fatto addirittura una doppietta, con due gol, uno più bello di un altro. Corvino ci ha visto lungo, strappandolo anche al Milan che lo voleva fortemente. Al 99% verrà riscattato a fine anno. Genoa, 5 e mezzo. Vendere più un tec a gennaio per me non è stata una grande mossa, ma Sanabria non lo farà rimpiangere. Parte anche Romulo l'ultimo giorno di mercato e non sarà sostituito. Per me non può essere sufficiente. Inter, 6 e mezzo. Resiste. Fermamente alle offerte arrivate per Gagliardini, Perisic e anche João Miranda. Alla fine arriva Cedric Soares. Peccato per gli interisti per qualche illusione di troppo. Juve, 6 e mezzo. Tegola in difesa. Non parte praticamente nessuno oltre a Benatia. Ma l'arrivo di Caceres è vero. Lo conosce Allegri, ma per me è un grosso deficit in una delle tre guardie più forti d'Europa. E ieri, dopo l'infortunio di Chiellini, unito anche a quello di Bonucci qualche settimana fa, ha fatto veramente notare grosse lacune difensive da parte della vecchia signora. Non sarebbe stato meglio usare il pugno duro e tenersi Benatia? Lazio, 6. Alla fine arriva Romulo, ma non cambia molto. Sarà un bel rinforzo in difesa, a parte Caceres, ma il tazzo tecnico non cambia praticamente di niente. Parte anche Murcia in prestito alla spalla, che comunque alla fine non ha mai giocato. Operazione in dolore, in entrata e in uscita. Milan, 8. La regina del mercato, quella che si è mossa di più e forse anche quella che si è mossa nel modo migliore. Comprano Piontek e Pachetà, pagandoli una cifra altissima, ma entrambi, alle prime uscite, stanno già facendo vedere tutto il loro parole. Parti Guain e direzione Chelsea, diciamo che neanche nella loro, hanno deciso di non riscattarlo, liberandosi anche di un ingaggio veramente molto molto alto. Per me sono da 8. Napoli, 6. L'unica cosa positiva è stato resistere all'attacco del PSG per Allan, per il resto il nulla cosmico. Parma, 6 e mezzo, arrivano Kurska e Brasau. Operazione fatta in sinergia con l'Inter per il nuovo Giulio Cesar, così lo chiamavano in Brasile. Buon mercato, comunque da Versa avrà una rosa disposizione completa. Roma, 4. Calciomercato ridicolo. Non arriva nessuno e alla fine parte addirittura Pellegrini, che con un Kolarov così svogliato non avrebbe fatto di certo male. Sicuri che Moncici è ancora il miglior di esse sul mercato? Sampdoria, 6 e mezzo. Alla fine hanno riportato Gabbiadini in Italia e alle prime uscite si sta dimestrando un buon rinforzo per l'attacco di Giampaolo. Non attuano praticamente nessun piano in uscita e questo per una squadra di Ferrero già è tanto. Sassuolo, 5. È vero, anche senza Bodeng hanno vinto, ma la gestione di due giocatori del genere per una squadra di questo calibro per me nella lunga si farà sentire veramente, veramente tanto. Spal, 6. Arrivano Viviano, che comunque non serviva perché già la squadra ferraresi aveva due ottimi estremi difensori come Gomis e Meninkovic Savic e Murcia, che comunque dà la quantità in mezzo al campo. Mercato, comunque, ampiamente sufficiente. Torino, 5. Almeno hanno resistito all'attacco della Cina per Belotti, ma veramente niente, niente, niente. Mi aspettavo qualcosa di più per sonnare l'Europa ed invece si dimostrano una squadra con ambizioni di metà classifica. Mi dispiace dirlo, ma è così. Udinese, 6. Se Do Kaka dovesse rispettare le aspettative che si sono create su di lui, potrebbe veramente fare il colpaccio e arrivare anche entro le altre della classifica. Ma per adesso non mi sbilancio più di tanto. Queste erano le mie pagelle, fatemi sapere voi cosa pensate di questo video e vi ricordo anche se un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!